Attimi di paura stamattina al casello autostradale di Torre del Greco. In una delle due corsie riservate ai clienti Telepass, infatti, un'auto è andata in fiamma. Si tratta di una Fiat Punto Bianca, il più di vent'anni. Il fuoco ha completamente avvolto la parte anteriore della vettura e invaso all'interno. Il fumo nero ha raggiunto e coperto tutte le corsie del casello. Tanta la paura tra gli altri automobilisti presenti, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Il conducente del veicolo è infatti riuscito ad uscire dalla portiera prima che le fiamme lo raggiungessero. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'aria ed evitato danni alle strutture presenti. Non è ancora chiara l'origine delle fiamme, ma presumibilmente potrebbe essersi trattato di un guasto al motore. Al momento tutto sembra essere rientrato e la circolazione autostradale è tornata regolare intorno alle 10 di questa mattina.